Contribuire al miglioramento della sicurezza stradale per ridurre al minimo gli impatti sociali ed economici derivanti dagli incidenti su strada è l'obiettivo del network Ready to Go da qualche anno presente sul territorio italiano. Si tratta di un sistema didattico innovativo per insegnare un sistema di guida difensivo. Il termine guida sicura magari non è proprio banale, però forse a volte usato a sproposito. Noi qui preferiamo definirlo come guida difensiva, sono delle tecniche riferite ad alcune situazioni particolari come l'asfalto bagnato oppure ostacoli sul percorso e gli istruttori Ready to Go insegnano i corretti comportamenti in caso di emergenza. Gli istruttori ACI hanno fatto tappa a Grizzana Morandi nel piazzale dell'area impianti sportivi Valdissetta per una giornata dedicata ad operatori comunali e a giovani neopatentati. Il metodo prevede dei moduli integrativi teorici che vanno ad approfondire alcune tematiche rispetto al programma ministeriale e delle guide dedicate, tra cui una guida difensiva, la guida ecocompatibile.